Una buona serata a tutti da Marco. Sta per concludersi l'ennesimo giorno di dominio assoluto sul Mediterraneo dell'anticiclone di matrice africana, ma da domani piccoli segnali di cedimento, sia in termini di pressione atmosferica che di geopotenziali, potranno favorire una maggiore frequenza di temporali pomeridiani sia sui rilievi appenninici che su quelli alpini, ma per un cambio di circolazione ed una rinfrescata generale bisognerà attendere martedì prossimo. Guardando nello specifico la mappa previsionale per la nostra regione, sarà un sabato soleggiato al mattino su tutti i settori, mentre nel pomeriggio sui rilievi potranno manifestarsi cumulonembi piuttosto imponenti e saranno possibili scrosci temporaleschi di breve durata e con possibile estensione anche sulle zone pedemontane. Nessuna novità di rilievo neanche per quanto riguarda i venti e i mari, i primi rimarranno sempre deboli di direzione variabile sulle zone interne e regime di brezza sulle coste, il mare calmo. Le temperature potrebbero subire una leggerissima diminuzione, ma rimanendo sempre su valori piuttosto alti, minime di questa notte comprese tra 20 e 26 gradi e massime di domani tra 30 e 36 gradi. E' tutto per la meteo, buon proseguimento di serata. Grazie